gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia siamo in piena crisi di governo ma che cosa vuole davvero matteo renzi quello che ha creato questa crisi beh nel mirino di renzi c'è conte ma vuole anche una centralità politica era marginale ed è marginale con il due e mezzo per cento tre del suo partito ma lui vuole essere al centro al centro della politica e c'è arrivato al centro però il suo elettorato non cresce il suo partito è fallimentare beh vedremo che cosa dirà oggi pomeriggio alle cinque e mezzo rivendicherà che per lui si è cambiato il recovery plan sono aumentati i fondi per la sanità quindi rivendicherà i suoi i suoi obiettivi raggiunti secondo lui ma la domanda legittima è ma che cosa vuole davvero raggiungere ecco prima c'erano pochi miliardi nella sanità 8 poi 16 adesso ce ne sono 20 qualcuno riconoscerà questo merito a renzi qualche elettore si avvicinerà a lui perché siamo sempre lì questioni di potere elettorale beh la scenografia delle del di oggi pomeriggio che cosa porterà ecco farà uscire le due ministri bonetti e bellanova dal governo matteo renzi citerà più volte il tema dell'emergenza sanitaria rivendicando che lui senza di lui questo recovery era una schifezza che invece adesso è un qualcosa di un po meglio lui dirà forse molto meglio bene ma che cosa voglia davvero renzi non si sa realmente lo scopriremo oggi pomeriggio anche perché conte aveva detto abbiamo la squadra dei ministri più bella del mondo dice proprio conte la squadra dei ministri più bella del mondo e quindi cambierà questa squadra dei ministri più bella del mondo conte ma l'obiettivo forse è quello di cacciare conte dalla sedia dalla poltrona di palazzo chigi perché per lui è un ostacolo lui che spunta a diventare di nuovo il leader del centro sinistra vede in conte ormai un uomo che lui non riesce più a raggiungere conte ha una un consenso in italia grande ma attenzione anche anche renzi ce l'aveva è aveva il 40 per cento oltre il 40 per cento alle europee quindi il consenso gli italiani lo fanno e lo perdono molto velocemente nel senso che è presto si fa presto da un 40 per cento a scendere a un 3 per cento come renzi anche conte potrebbe precipitare velocemente dal 50 60 per cento che gli danno di consenso personale a 10 per cento è la strada è molto veloce ma quindi renzi sarebbe per tirar giù dalla sedia conte perché è un avversario politico trovare una centralità nuova tornare ai livelli più alti di consenso di quando guidò per la prima volta il partito democratico all'elezione del 2018 quando guidò l'ultima volta ma insomma sono sogni di un politico in declino perché renzi è un politico assolutamente in declino non gli crede realmente più nessuno quindi realmente il suo mirino è proprio conte agevolato inizialmente dalla rincorsa della caos interno del movimento 5 stelle dall'ombra dell'avvocato renzi è arrivato all'ultimo miglio diciamo che l'ex premier si sentirebbe padre di una nuova fase ecco come lo è stato di questo nell'agosto del 2019 lui si sente fiero di cambiare le carte in tavola di far arrivare un altro presidente del consiglio ma sembrerebbe che non gli stia riuscendo il giochino di cambiare di cambiare conte non gli era riuscito neanche col conte 1 sinceramente anche lui voleva cambiare il premier non c'è riuscito sembrerebbe che neanche questa volta sia in grado di riuscirci renzi è convinto che facendo fuori me dice conte si apre un nuovo spazio per lui se probabilmente renzi punta a questo perché quella che appare una strettoia diventi un'autostrada però renzi ha bisogno che si apra la crisi e si chiudono si chiudano le vie di una comunicazione tra la maggioranza i responsabili con conte fuori dai giochi e la sua speranza il pd potrebbe scaricarlo scenario però smentito dal nazareno a tutti i livelli beh insomma si è infilato renzi in una strada stretta lui era convinto che i numeri non ce li aveva che non avrebbe che non avrebbe mai trovato i responsabili che si sarebbe cambiato conte diciamo che lo aveva sottovalutato ma aveva sottovalutato anche il pd 5 stelle questo governo invece il pd che poi è stato il regista della ricerca dei responsabili sembrerebbe averli trovati quindi renzi ha sottovalutato i suoi ex colleghi di partito ha sottovalutato conte e invece si sono mossi tutti e sembrerebbe proprio che quello che viene fatto fuori sia proprio lui che finisce all'opposizione lui che voleva continuare a governare con più poltrone avendo cambiato conte rimane quello fregato naturalmente l'unica cosa che a lui rimane e che non sia andati al voto forse vedremo cosa ci dirà mattarella quindi se si fosse poi andati al voto si sarebbe decretata la fine reale di renzi perché probabilmente andando al voto per causa sua non sarebbe non riuscirebbe ad arrivare neanche al 3 per cento non ci arriverebbe e quindi sarebbe la sua fine politica si sarebbe fatto fuori lui scontrandosi con conte che conte sta e starebbe vincendo bene questo è quello che sta per succedere intanto tra le persone più citate all'interno di italia viva in queste ore c'è silvio berlusconi nel fine settimana scorsa come riportato dal corriere della sera renzi ha detto di vedere conte troppo sereno motivando l'analisi con la suggestione che magari ha già un accordo con berlusconi quell'accordo che forza italia ha sempre smentito se mai si materializzasse anche sotto forma di soccorso azzurro spingerebbe italia viva all'opposizione di un gruppo aritmeticamente pericolante politicamente poco solido dice ecco dice renzi in privato pensate che a me faccia paura portare italia viva all'opposizione di un governo del genere no non mi fa paura vedremo quello che succederà in queste ore ormai manca poco per capire quello che succederà oggi dovrebbero essere i giochi fatti dovrebbero ma è da settimane che si dice così grazie e buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti grazie a tutti